Vittoria importante, come dicevi tu, la seconda consecutiva dà morale, dà classifico soprattutto, perché comunque sicuramente è un ossigeno importante per affrontare poi questi impegni ravvicinati. Già mercoledì c'è la prossima gara, quindi sono molto contento da questo punto di vista. A punto di vista tecnico, tattico, c'è qualcosa da migliorare ancora, perché abbiamo rischiato, cioè la partita l'abbiamo sicuramente meritata, potevamo fare tanti gol già nel primo tempo e quindi senza ombra di dubbio abbiamo vinto con grande merito. Però il calcio se non la butti dentro è rischiato di non vincerla o di pareggiarla, quindi potevi buttare punti che erano sicuramente oggi alla nostra portata perché l'abbiamo dimostrato in campo. L'abbiamo vinto grazie a loro, grazie al gruppo, grazie ai giocatori che hai sottolineato tu, perché entrando hanno cambiato sicuramente il volto alla partita, hanno segnato Greco e Joao, quindi si sono fatti trovare pronti, è quello che ho chiesto io. Ma i nostri giocatori quando vanno in panchina non sono scelte, sono scelte che sono lì per far giocare uno piuttosto che l'altro, perché abbiamo una squadra abbastanza equilibrata da questo punto di vista, quindi ci giocano il posto come giusto che sia e alla fine oggi ho scelto di dare continuità alla partita agli undici che hanno giocato a Bavalino, ma quelli che sono entrati potevano tranquillamente partire dall'inizio, quindi ora ci saranno queste partite già mercoledì e poi domenica di nuovo con il Sersale, quindi cambieremo sicuramente qualcosa perché ho massima fiducia in tutti i componenti della Rosa. Sì, ma tanto sarà difficile anche per loro, è un qualcosa che dobbiamo fare tutti, noi sicuramente la prepariamo nel migliore dei modi con il morale giusto, quindi affrontare queste gare abbinando la vittoria di oggi e quella di Bavalino sicuramente sarà più facile, ma allo stesso tempo non dobbiamo mollare di un centimetro, dobbiamo avere ancora tanta fame perché i limiti ne abbiamo, ne abbiamo anche tanti, bisogna limarli il più possibile, bisogna migliorarli giorno per giorno per far sì che questa squadra cresca ancora di più.